Ciao girls e bimbe, sono tornata con un nuovo video e questo è il primo di una serie, come vi ho detto nel penultimo video che è uscito, dedicati al Natale quindi i video dedicati al Natale, i makeup natalizi questo in teoria ha solo una piccola aggiunta di Natale sulle labbra e qui che ho aggiunto un mix di due prodotti, ovvero questo ombretto qui di Just Cosmetics che si chiama Forbidden Tree, questo verde qua metallizzato e un po' di matita verde, vi faccio lo swatch, faccio prima perché non ve lo so definire quasi verde acqua per accentuare, dare un pochino più di luce vi faccio vedere lo zoom, faccio prima ecco vedete, è molto molto semplice quindi lo possono ricreare veramente tutti cioè dalle più esperte in makeup ma anche alle principianti quindi come primo video ho voluto stare molto sul basic anche se ovviamente ci sono le ciglia finte che caricano ancora il look lo sapete, io non posso non fare video tutorial senza le mie ciglia finte e senza eyeliner però sono molto molto soddisfatta scusate per i capelli ma sono in teoria erano abboccolati ma si stanno piano piano sfacendo tutti quindi non so nemmeno come tenerli e niente non so nemmeno come se stanno piano piano sfacendo tutti non so nemmeno come se stanno piano piano sfacendo tutti ma se stanno piano piano sfacendo tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.